Mina settembre 2, il riassunto della terza puntata. La protagonista trova finalmente il coraggio di dire la verità a Claudio, ovvero che non ha mai smesso di prendere la pillola, non se la sente di avere un figlio. Claudio è distrutto e le propone di fare un viaggio in barca a vela insieme per salvare il loro matrimonio. Mina gli risponde che per il momento non può perché ha il suo lavoro. Claudio allora dice che se si tratta di aspettare 15 giorni lui l'avrebbe aspettata, ma in realtà il lavoro è solo una scusa. Il matrimonio tra loro è finito anche se non volevano ammetterlo. Ormai è rimasto solo l'affetto. Claudio quindi parte con la barca a vela, ma chiede a Mina di andarlo a salutare. A questo punto la protagonista gli chiede che cosa ne sarà di loro quando Claudio tornerà dal viaggio. Non vuole perderlo, gli vuole bene nonostante l'amore tra loro sia finito. Claudio le risponde che gli deve lasciare il tempo per trasformare i suoi sentimenti in qualcos'altro. Domenico aiuta Mina con un caso complicato e a fine puntata gli dice che presto tornerà al consultorio, nel suo quartiere. Dalla prossima puntata in poi torneranno ad essere colleghi. A un certo punto prende un taxi e decide di seguire il ginecologo. Quando l'uomo ferma la moto, dal portone esce una donna che lo basa. Si tratta della psicologa. Mina rimane lì a bocca aperta.